Ciao a tutti, io sono Elena, questo Audiofilando, e oggi sveleremo il vincitore della terza ed ultima parte di Guess My Theater. Sì, però allora ragazzi ditelo, cioè non è possibile, siete dei cecchini, non avete nemmeno aspettato il primo indizio, io avevo montato il primo indizio, anche il secondo, perché questi comunque erano più elementi, invece voi siete veramente bravissimi, andate a guardare, a riguardare i video, notate i dettagli nei video fatti, il piedino e il fianchetto che avete visto in quel tal video, siete bravissimi. In particolar modo, complimenti ad Enrico Rizzi che è il vincitore di questa ultima tranche. Enrico è stato il primo, così, un fulmine a indovinare la nostra composizione di diffusori, stiamo parlando di diffusori tutti casa Sonus Faber, ormai sapete la nostra passione per la Sonus Faber, la mia dal punto di vista estetico, che secondo me non è uguali, e quella di Maurizio invece, ovviamente, di più per le caratteristiche tecniche, e mi accontenta regalandomi la possibilità di avere dei diffusori così belli in casa. In particolar modo stiamo parlando del canale centrale, che è la Sonetto Center 1, mentre invece i due canali frontali sono le Sonetto 2 e invece i Surround sono Sonetto 1, quindi tutto linea Sonetto, mentre invece il Subwoofer è un Gravis 2. Bene, complimenti ancora ad Enrico Rizzi che ci deve mandare i suoi dati per ricevere il premio. Questa volta abbiamo scelto il Blu-ray di Bohemian Rhapsody, e questo proprio per far notare che i diffusori hanno in comune la musica, sono l'unico elemento della catena dell'On Theater in comune anche con quella Hi-Fi, quindi questo è stato il motivo per cui abbiamo scelto questo premio. Anche questa volta il gioco è finito, seguirà prossimamente ovviamente un video in cui Maurizio vi spiegherà meglio sicuramente di me le caratteristiche tecniche degli elementi che abbiamo scelto per la nostra catena On Theater. Mi raccomando, state sintonizzati, seguiteci e buoni ascolti e ciao! Ciao!